Ok ragazzi oggi vi mostrerò come uccidere Makarov Secondo voi probabilmente sto anche sbagliando Invece no Questa missione tecnicamente dovremmo uccidere Zakaev Però Se avete giocato a Modern Warfare 3 Vi ricorderete che Makarov In uno dei vari flashback Praticamente era presente questo giorno E faceva da autista Per Zakaev Praticamente c'è un trofeo In questo Modern Warfare Remastered Che mi pare si chiami Paradosso Temporale Dove appunto possiamo uccidere Makarov Nell'edizione originale di Modern Warfare Non c'era Non c'era Makarov nella macchina Quindi l'hanno aggiunto qui E' stato un bel tocco di classe secondo me E l'hanno aggiunto appunto in queste In una di queste macchine Mi pare che sia quella più avanti Quindi adesso mentre Questi stronzi parlano Mi pare che sia più avanti Mi pare che sia questo se non sbaglio Eccolo Makarov Eccolo Makarov Una figata questa cosa che hanno inserito Veramente Un piccolo tocco di classe Che figo ci hanno pensato E comunque ragazzi Questo era il video per mostrarvi Come uccidere Makarov E niente Grazie a tutti per averlo visto Grazie a tutti